Prima volta il campionato italiano scende nella Basilicata e siamo già con gli highlight di gara 1 per quel che riguarda la classe Limex 2, la cilindrata minore, un bot in partenza, nessun problema, vi tranquillizziamo subito, c'era un pilota caduto e una piccola botta alla mano, le moto erano rimaste incastrate, ma è una pista veloce, scavata perché è stata abbondantemente irrigata, è stato fresato e vediamo la lotta tra quelli che poi saranno i protagonisti, 728 per Ivo Monticelli che è sceso qua anche lui per affinare l'allenamento in vista del prossimo round mondiale, e poi 747 per Michele Cervellin, è stata una gara combattuta con il colpo di scena che ha visto la caduta di Ivo Monticelli, poi ha cercato di recuperare, ma davanti poi se n'era andato Michele Cervellin che è ritornato ad essere protagonista in discusso, lo era stato già a Faenza ma poi qualche sfortuna qui questa prima manche non se l'è lasciata sfuggire, una pista dicevo veloce, tecnica, impegnativa per i canali, non è molto selettiva ma si sta segnando. Sì, 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 giustamente, durante la nottata hanno riflessato e ha bagnato abbondantemente tutto il tracciato e questo si è letteralmente consumato dopo tutti i passaggi dei piloti e sta diventando anche abbastanza tecnico. Passiamo subito alla classe maggiore, la classe MX1 e qui ci sono stati all'inizio degli outsider di russo perché uno è un ex campione, anzi il campione italiano in carica dell'Over 21, che si è messo in evidenza, Alessandro Cavandoli poi lo vedremo, ma c'è un Samuel Zeni che ha spinto forte subito all'inizio, Samuel stava dominando la gara con Lupino alle sue spalle che invece era partito in terza posizione, ha dormito un po' troppo, un piccolo errore, ha cercato di rimontare ma davanti l'errore più clamoroso e più pesante lo ha fatto Samuel Zeni che vediamo ancora in pista davanti proprio al numero 120 che è Alessandro Cavandoli e davanti al 77 poi Ale Lupino è riuscito a mettere dietro il pilota ed ecco un primo impiccio, chiamiamolo così, si è letteralmente impantanato nel fango, un primo errore e lì anche una botta alla ginocchio, tant'è che poi si è dovuto ritirare. Sì, sì, grandissima partenza di Samuel, grandissimi primi giri allungato in testa, in solitaria, a seguire un ottimo Cavandoli e Lupino ha cominciato a rimontare, poi purtroppo per Zeni qualche errore di troppo. Esatto, e ha pagato Pegno. Chi invece continua nella sua marcia è precisa, si è rimesso in evidenza, è stato sorgnone come nel suo stile di guida ma ha conquistato un'altra grande seconda posizione, il leader, scusate, il campione in carica, intanto vedete la botta alla ginocchio per Samuel Zeni. Esatto, qui rivediamo gli highlights, mucchio gigantesco in partenza, groviglio come sempre di moto, Luca Poggi che qui ci aveva già provato, poi ci è riuscito ad andare a terra, peccato per lui. Rivediamo i momenti salienti con Samuel Zeni, bravo, ha detto il dolore c'era ma era sopportabile, da buon motocrossista, ha stretti i denti per portare a casa punti pesanti, punti pesanti in questa seconda manche. Con Ale Lupino soddisfatto, meno delle sue partenze, per cui vediamo proprio il momento in cui Ale ha avuto la meglio su Samuel e poi ecco l'attacco già effettuato ai danni di Davide De Bortoli che ha resistito poi anche ad altri attacchi, non a quello di Irt, mentre Irt appunto va in seconda posizione. Ecco il momento topico della giornata, negativamente parlando per Christian Beggi, qui aveva guadagnato la posizione, l'ha scivolata e è andato a terra. Peccato per lui, peccato per Davide De Bortoli che comunque è riuscito poi a riprendere in mano la situazione e a chiudere in maniera più che dignitosa. Si sta raggiungendo Samuel Zeni, un terzo posto diceva Giancarlo Ricciotti in telecronaca diretta, quasi sperato dopo il botto della prima. Sì, sì, la prima domanda sono caduto, poi stavo lottando con Irt e mi sono girato di nuovo il ginocchio, ho provato a partire, ho visto che i primi giri sì mi faceva un po' male ma poteva andare e poi si è scaldato e è andato tutto bene. Bene, allora congediamo Samuel che si riposa prima della prima azione, chiamiamo al volo Matthew Irt che si sta rifocillando ma ci ha visto quindi ci raggiunge velocemente, quindi una ottima seconda posizione questa manche, quindi due manche buone per te. Sì, due manche buone anche per il campionato, mi sono divertito parecchio, seconda manche era bello, spingevo dietro Lupino che aveva un po' di più, ho fatto un errore, per fortuna avevo tanto spazio dietro e ho chiuso il secondo. Allora eccoci, siamo di nuovo sotto il podio, vincitore delle due manche, non ci sono stati gli errori di faenza, una gara quasi perfetta. Sì, quasi, quel quasi che mi preoccupa un po' perché mi sto concentrando sulle partenze, sto provando alcune tattiche anche con Andrea Bartolini che mi segue da casa ma su due manche non sono riuscito a boccarle neanche una, perciò proviamo per la terza, non c'è mai due senza tre. Perciò il mio obiettivo è la partenza, perché è il problema che ho al mondiale e partire indietro al mondiale soffro tantissimo, soffro anche qua, perciò vediamo l'ultima manche cosa riesco a fare, però la pista è bella e mi sono allenato, perciò sono soddisfatto. Bene, anche Alessandro lo congediamo, lo mandiamo al podio e lo rivedremo sicuramente nella super campione. La penultima di giornata per i migliori, nel frattempo si disputeranno le gare per chi non è riuscito ad entrare nel gruppo dei migliori ma anche loro guadagneranno punti. I primi scontri con Ivo Monticelli che ha tentato subito un primo attacco respinto da Brian ma poi la legge del pilota marchigiano viene confermata con il sorpasso della prima posizione. Questa era la fase centrale di gara dove abbiamo assistito a tanti scambi di posizione, a tante entrate decise per guadagnare una posizione, per guadagnare punti e con eccolo qua il 999 Davide Bonini che poi aveva perso ma dimostra un grande carattere il pilota di Varese, ce l'ha dimostrato anche nell'intervista di volere a tutti i costi il podio e ci è riuscito e poi il monitor dei tempi che ci ha detto che proprio nelle fasi finali era arrivato vicinissimo al pilota ora inquadrato Michele Cervellin che con questo secondo posto e con la vittoria in gara 1 ha ottenuto il miglior punteggio di giornata. E' qui il gesto che ci ha fatto sorridere, andiamo ragazzi tutti ad inseguire Ivo Monticelli però un gesto che non ha trascinato il resto della compagnia, sono rimasti lontani, non hanno avuto modo di tenere il ritmo di un grande Michele mentre purtroppo qui l'ennesima posizione persa da parte di Alessandro D'Angelo che ha pagato carissima questa giornata calda qui in Basilicata, la vittoria intanto guippata. Siamo con Ivo Monticelli, primo al traguardo, un buon vantaggio, ci ha raggiunto per primo quindi sconvolgiamo l'ordine delle interviste, una seconda match migliore? Sì, la prima match sono partito bene, ho lavorato molto nelle partenze, infatti sono partito tutte e due bene, però la prima ho avuto un problema più che altro mentale e niente, sono scivolato, non riuscivo a guidare bene per via delle traiettorie, non trovavo il giusto feeling con la pista. Mentre la seconda match, ottima partenza e sono riuscito a passare subito i primi due e sono andato via con il mio passo, tranquillo, è un ottimo allenamento devo dire. Ma un allenamento che può proseguire, sicuramente proseguirà con la super campione, qui la due e mezzo non dovrebbe essere tanto penalizzata rispetto alla quattro e mezzo, cosa pensi di poter fare? Ma sicuramente siamo più penalizzati in partenza, qui è piuttosto fondamentale visto che è un po' stretta la pista, ci sono molte traiettorie, si passa lo stesso, però sì possiamo fare del bene anche lì sono sicuro. Bene, grazie Ivo. Diamo il tempo a Michele Cervellini di dissetarsi, un bel caldo comunque, anche un'ottima seconda match dopo la vittoria della prima, un secondo posto. Sì, un'ottima seconda match, una partenza non ottima, meglio la prima, però sono riuscito a rimontare, mi sentivo meglio addirittura della prima, come ogni turno meglio, mi sento meglio con la moto, col feeling. Ringrazio il team, Martin che ha preparato una moto fantastica, anche Dunlop e il gruppo sportivo delle Fiamme Oro che sono entrato quest'anno, mi segue Massimo, Contini che mi dà ottimi consigli prima della partenza, molti utili durante la gara. E poi anche vorrei ringraziare il dottor Sambo che mi ha messo in piedi giusto giusto per la gara di faenza e adesso pian piano stiamo prendendo il ritmo e i risultati si vedono. Siamo con Davide Bonini, il team manager Michele Marchesi diceva speriamo nel podio, che ce lo vuole. Sì dai, ci voleva dopo la prima gara che non era andata molto bene, questa è andata molto meglio, peccato per la prima mancia a partenza, seconda un po' meglio, mi ha recuperato bene, terzi va bene, piano piano miglioriamo gara dopo gara, speriamo che vada bene il campionato. Ma ti faccio la stessa domanda che ho fatto a Ivo Monticelli, con le due e mezzo qui è possibile fare una bella gara anche nella super campione? Sicuramente in tanti punti si è avvantaggiato perché essendo più maneggevoli è molto più facile in qualche curva, in qualche canale, però ci sono delle salite un po' che adesso iniziano ad essere bucate, la partenza comunque non è proprio ottimale, quindi sicuramente partiranno davanti quei 4.50, poi vedremo durante la mancia. Bene, grazie Davide, li aspettiamo fra un attimo al podio. Partono gli highlights per vedere se riusciamo a capire quello che è successo a Beggi, allora invece nel groviglio non ci riusciamo, quello che è certo che vediamo un De Portoli invece che purtroppo per lui è rimasto lì, ha chiuso in ventunesima posizione, un piccolo bottino di punti da portare a casa con il numero 14 Zeni subito messi in riga da Ivo, un Zeni che però considerando anche lui come era partita diciamo che se l'è cavata bene, a rischio di non prendere parte alle altre mance con la botta al ginocchio, un quinto posto in questa super campione non è poi così male. Assolutamente, assolutamente, peccato davvero per la prima mancia altrimenti anche per lui sarebbe stata una grandissima giornata. Sì, 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 perché ci stava, ci stava, d'altronde il suo passo è quello e qui ha lottato nonostante l'acciacco con il suo avversario di turno Cervelline, qui è il momento dell'attacco risolutivo da parte di Ale Lupino, di Alessandro Lupino che va poi ad imbolarsi, abbiamo capito cos'è successo a Ivo Monticelli, è stato pescato dalla rete fuori pista, poi ha rischiato ancora con quel numero. Una super campione che non poteva andare meglio sinceramente. Sì, sono contento, una partenza buonissima sto giro e sono riuscito tranquillo, sono riuscito a portare in fondo la gara, terza posizione che va più che bene, davanti Ivo e Alessandro andavano veramente forti e sono contento di come è andata oggi. Diciamo che stiamo ritornando come una volta. Bene, grazie, cerchiamo di recuperare. Volevo fare un annuncio, volevo salutare mia nonna, mio papà, gamba di legno, da tutto anche lo staff FX Action e ci vediamo, ciao. Siamo con Ivo Monticelli, secondo qualche piccolo rischio ma una buona super campione. Ma ero partito bene lo stesso anche con i quattro e mezzo, mi sono infilato bene la prima curva, sono uscito terzo. Dopo i primi giri ho dato tutto, sono riuscito a passare subito in testa e niente, ho fatto la gara con Lupino, eravamo andati via, era un ottimo passo, un ottimo allenamento abbiamo fatto. E dopo mi è passato e purtroppo in una discesa con un doppiato che mi ha intralciato, la moto non sono riuscito a tenerla perché ho frenato, perché c'era il doppiato e sono finito fuori dalla rete. E niente, ho finito secondo lo stesso, avevamo un ottimo vantaggio e sono contento. Per far prima ci ha aiutato, è arrivato in bici, comunque una super campione che non l'hai fatta in bici, l'hai fatta in moto oggi tre vittorie. Sì, oggi è giornata, diciamo, un buon allenamento, sono contento perché all'ultima mancia la pista era davvero tosta e finalmente sono riuscito a fare una partenza come volevo io, in seconda posizione. Sono stato tranquillo i primi giri e poi spingere verso la fine. Era quello che volevo fare a fine giornata, perciò devo cogliere questo lato positivo di oggi, della terza mancia. Lo raccoglio, lo metto in tasca che mi servirà la settimana prossima in Spagna al Mondiale.